La spumeggiante Antonella Clerici si appresta a diventare la moglie del suo Vittorio? Pare proprio di sì, il grande giorno per loro si avvina, dopo la romantica proposta che Garrone le ha fatto, non ci sono più a dubbi. Antonella Clerici pronta per l'altare Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. La splendida padrona di casa di sempre Mezzogiorno vive un'intensa e profonda storia d'amore con Vittorio da ben sette anni. Recentemente la coppia si trasferita ad Acquascrivia, un posto bellissimo immerso nella natura. La loro complicità, l'intesa e l'affiattamento sono alla base del loro rapporto di coppia. La conduttrice al suo fianco serena, tranquilla e sempre con il sorriso. Segni inequivocabili che il suo rapporto di coppia funziona alla grande, non c'è alcun dubbio in merito. Antonella Clerici prima di conoscere e di innamorarsi di Vittorio stata sentimentalmente legata ad Eddie Martens, dalla loro relazione nata Mael. Poi, la storia finita e la conduttrice non ha mai negato di aver vissuto un momento davvero critico a causa del distacco da Eddie. Anche lui ha sofferto per la separazione, ma oggi hanno entrambi delle nuove vite ed il passato lo hanno lasciato alle spalle. Vittorio Garrone ed Antonella Clerici sono una coppia davvero perfetta e secondo quanto fatto trapelare dal settimanale Nuovo TV pare proprio che lui le abbia chiesto di sposarlo. La proposta arrivata nel bel mezzo della loro vacanza, i due sono infatti in giro per la Francia del Nord e pare che il bel Vittorio abbia approfittato del momento per chiederle di convolare a nozze. Vittorio le ha chiesto di sposarlo, e lei ha riposto. Ovviamente, Antonella non ha potuto che rispondere che sì, alla proposta di Vittorio di diventare sua moglie. Non si hanno altre informazioni, ma di certo dai loro volti rilassati e dall'espressione serena si evince che sono entrambi felicissimi, non c'è alcun dubbio, leggi anche a trattino maggiore a leggi anche a trattino maggiore a una notizia che non appena è stata riportata rimbalzata in ogni dove. Antonellina amatissima dai telespettatori italiani che le sono sinceramente affezionati. Sapere che sta per vivere un'esperienza unica come quella del matrimonio per tutti i fan della conduttrice è una notizia incredibilmente emozionante. Sapere che sta per vivere un'esperienza 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 un'esperienza.